E' iniziato alle 13 nella camera mortuaria del cimitero di Trani l'esame autoptico sul corpo di Gregorio Durante, il 34enne di Nardò morto l'ultimo giorno dell'anno nel carcere tranese dove era detenuto. La procura, che ha conferito l'incarico al medico legale Biagio Sollarino, ha intanto già concesso il nulla ossa per il funerale del giovane che verrà celebrato nella sua città natale. Il giorno verrà deciso nelle prossime ore. L'inchiesta sulla morte del Neretino, scaturita dopo la denuncia dei familiari, nelle scorse ore ha portato all'iscrizione sul registro degli indagati di 13 medici, del penitenziario e dell'ospedale di Bisceglie e del direttore del carcere di Trani ai quali è stato notificato l'avviso di garanzia. Per tutti l'ipotesi di reato contestata e di concorso in omicidio colposo. L'esame autoptico in corso di svolgimento stabilirà le cause del decesso e dunque le eventuali responsabilità. I parenti di Gregorio Durante, figlio di Pippi Durante, condannato all'ergassolo perché ritenuto l'autore materiale dell'omicidio di Renata Fonte, avevano da tempo chiesto la scarcerazione del 34enne a causa dei postumi di una encefalite virale che l'aveva colpito in età adolescenziale. Le sue condizioni di salute, secondo i familiari, non erano compatibili con il regime carcerario. Secondo quanto denunciato dai parenti della vittima, assistiti dagli avvocati Francesco Fasano e Nicola Marino, Durante sarebbe stato costretto a restare per tre giorni in isolamento diurno perché accusato di avere simulato una malattia. La procura intanto ha acquisito tutta la documentazione medica.